Sesta giornata di campionato del Giro in C del campionato di Serie C ci è attesa per il derby pugliese tra Fidelissandria e Foggia, che vedrà contrapporsi le due squadre dopo anni nel settimo derby che si svolge in Lega Pro. Alle 17.30 apriranno le danze le partite tra Messina e Bari, Taranto e Montero si tuscia. La squadra di Mignani, dopo lo stop contro la Paganese, deve riprendere il proprio percorso per non perdere il vantaggio accumulato sulla seconda in classifica. Il Taranto, dopo la vittoria contro il Latina, ospiterà la formazione laziale, reduce dal pareggio contro il Palermo. Alle 18.00 si giocheranno quasi tutte le gare del Giro in C, ci è attesa per la partita tra Latina e Juve Stabia, mentre i Monopoli dovranno riscattarsi dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla, cercando di ottenere la vittoria contro il Picerno. Si giocheranno anche Paganese-Vibonese e Palermo-Campobasso, con Mr. Filippi, che deve dimostrare ancora le potenzialità della sua squadra e in ultimo la gara tra Potenza e Virtus Francavilla. Domani, a chiudere la sesta giornata del campionato di Serie C, si giocheranno le gare tra Catania e Turris e Avellino Catanzaro. Grazie. 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 Grazie.